Mi piace la cultura italiana molto. I miei genitori sono di italiano e cucinano sempre il cibo per me e la mia famiglia. Il cibo è molto bene, è la mia parte preferita della cultura italiana perché è arte anche. Il cibo è bene, ma è arte anche. L'italiano fanno il cibo con cura e portano le persone insieme. Quando sono andato in Italia mi è piaciuto molto l'architettura e le arte. L'Italia ha molti famosi capolavori e belli. Il mio preferito era dentro del Vatican, chiamato la Cappella Sestina. Michelangelo ha dipenuto l'edificio e l'arte a tutti in la Cappella Sestina è molto famoso. La famiglia è molto importante nella cultura italiana. Penso che anche la famiglia sia importante, ma gli italiani celebrano la famiglia italiana. Sono italiano e i miei genitori e cugini sono molto vicini e è importante uscire con la famiglia allargata e una cena italiana con ogni ogni persone nella famiglia. Mi piace uscire la famiglia allargata. Anche mia famiglia è tedesca e francesca. Questo aurorio è molto famoso in Germania. La Germania ha un'architettura diversa dall'Italia. Alla mia famiglia piace mangiare il cibo tedesco come il Brotwurst e il Brotwurst e il Wienerschnitzel. La mia famiglia è diversa e viaggiamo in molti posti che i miei miei relativi vivono, come la Germania, la francesca e l'Italia. Sono fortunato a essere parte di molte culture. Grazie a tutti.